Katimino dove sei? Ciao Katimino vuoi dire a tutti chi è la vera identità di Katimino? Chi è? Giuppino Giuseppe però guarda che bello io sono troppo bravo sono però la basta che sono troppo blu che cosa siamo in sette già wow io metto no siamo in sette non posso non posso startare così no 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 ok tanto ci arriviamo a dieci si può otto nove dieci siamo arrivati siamo arrivati guarda la bella mandria Katimino che colore sei? vabbè che start si o meno 8 va bene 8 va bene perfetto perfetto no Giuseppe Giuseppe non devi vedere mai aspetta però siamo messi un po troppo vicini io me lo faccio questo però che bello ma cosa è successo? ah si te l'ho detto che ci sono le decorazioni molto decoroso l'hanno messo wow ho fatto tutto pauroso come il video che ho fatto ieri molto pauroso Giuseppe ma tu lo sai che ieri ho iniziato una nuova serie è vero? si si è bellissima e c'è halloween come non fare cose horror meglio io sto facendo un'altra cosa e dai finisci ho distrutto tutti i metodi Giuseppe però non borbottare che è la più forte Giuseppe non borbottare dove è stato? oh madonna uno l'ho fatto ci sei sto venendo ok li abbiamo fatti ok ok io vado a fare nulla eh c'è quello bianco che è sempre da me aspetta io vado a fare delle tasche ah se apri la mappa ti dice le tasche che puoi fare tu lo sai? si lo so io qua in questa stanza c'è tre cose che posso fare io io qua non ho visto c'è questa ok vado a le lettiche ok vado a le lettiche ok ho due cose da fare ciao fra eh si io faccio questa cosa c'è da fare? cosa succede? mi sa che l'impostore è uscito mi sa che l'impostore è uscito boh play ora play? si se non affaccio una pubblicità molto bizzarra ahahah molto bizzarra molto molto ma perchè mettono questa pubblicità giù? sono tornato è finita la pubblicità bizzarra io sono tornato però eh io devo essere al rosso io devo essere al rosso come si sono permessi chi è il rosso? non lo so human no non lo spero ok metti dai metti play start ok siamo in dieci start ok Giuseppe gira quel telefono e non devi guardare facciamo shhh 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 questo è l'assassino però non deve fare questo allora io ce ne ho una all'elettrica se lo sa qualcuno ha abbandonato va bene non fa niente perchè dovrebbe aver abbandonato oh c'è cacchetta che mi segue che cosa è successo? mi sembra che mi avevano ucciso ohhhhh allora qualcuno è morto oh no no quello è abbandonato non lo so allora cosa è successo? non lo so io skipo io skipo pure aspè 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 mettiamo skip 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 ho scritto malissimo skip però non fa niente aspetta aspè joseppe skip pula skip oooh cos'è successo? oh perchè ha tutti appena magari era lui l'assassino un pastore guarda con la maschera da Jason è lui era lui era lui oh mio dio adesso pronti a un'altra pubblicità bizzarra queste pubblicità ti fanno esplodere il telefono vero Giù? eh? si ok si non sei tu? no eh baby bomber abbandonata ok che non dici? perfetto 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 oh 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 oh!!!! un impostore chi sarà mai l'impostore? tu ah no tu io sto lontando da tutto io mi vado a fare le mie tasche io pure vado a fare le mie bellissime tasche ecco qua le posso fare una il motore che bello ma io non ho poche da fare tasche no basta che cammini poi ti fanno te le fanno fare pure altri tipo ti affacciano questa la puoi fare poi appena le fai ti fanno fare tutte le cose io ho finito di fare quello dei motore giù dobbiamo vincerla si lo so e il baso verde lo banno non lo bannare verde basta general b guarda il viola dice giù guardiamo il viola si l'arantina abbandonata viola votiamo il viola cacata pure abbandonato no com'è chiara mi sembrava che c'era scritto cacata ok vai general b e tutti eh tutti 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 che cos'è riquattusco eh riquattusco vabbè tutti chiamati a me ma basta indovinare tu se non ci giocano accanto sono tutti vicini vicini ora vi gioco pubblicità bizzarra perché siamo così pochi eh perché tutti sono usciti comunque si sono rosso molto bella tutta cosa ciao kebab kebaro ciao daniello kebaro ma che sto bara daniello kebab sembra che si chiama kebab siamo a sette minuti abbiamo fatto 35 partite metto qualcos'altro ok nove io start no basta forse start giuseppe se stanno andando tu e io start perché start stupido ciao oh c'è uno che si chiama ciao no è uno che è scritto ciao però non è detto che sei ciao quindi può essere che sono i ultimi che ci sposti no certo 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 però giuseppe mi mettere più piano quel telefono ok già mi abbasta il mio io ho delle tasche da fare qui e la facciamo subito io ho delle tasche da fare a questa io non l'ho mai fatta oppure facciamo una cosa sai giù noi parliamo solo quando siamo quando fanno eh i meri in meeting ok ciao ok raga è benissimo questa cosa se ne è andato per sempre aiuto eh si va bene però vabbè facciamo una cosa proviamola a chiamare giù non so chi è chi è il rosso io dopo un mutaggio barata io so chi ha madonna ok chi è l'escursione catimino ha dato l'arma io so chi ha ciao ciao è il blu è il blu è il blu ma il blu è quello italiano è il blu è il blu il blu perché è il blu è il blu secondo me l'ho visto che stava vicino a fare una tasca che doveva fare io ah ma c'è pure una napoletana c'è una che si chiama napoletana e ha descritto chi è stato a napoli oh mio dio che babone sei uno dei soliti idioti oh ma che cavolo sta succedendo qua oh metti pronto sono tutti italiani ma tutti pazzi via FB1 per esempio ma sono tutti italiani pazzi non so ma abbiamo buttato il blu eh non erano così si imparano a dire queste cose a lui lui voleva da fare un bravo signore senza essere una niente secondo me è napoletana che ha giudicato il marrone mi insegua ok ho mandato un video di cui faccio una scorreggia napoletana oh oh è il marrone bravo è il marrone secondo me è il marrone mi seguiva dici snozz secondo me è napoletana no secondo me è snozz no 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 mi seguiva troppo in modo sospettoso dai vota votiamo che bello io ho votato votiamo tutti ma sono tutti italiani eh basta non si può leggere non si può leggere non si può leggere gioca ah non leggete niente niente non leggete non leggete perché scrivono queste cose idioti eh basta non ce ne spero una io è marrone basta basta ma basta 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 ho scritto un basta che di sicura mentre le scrivevo hanno detto altre cose Con lo bianco si vede aggressione Giuseppe abbandoniamo la partita Si stanno giudicando a vicenda BASTA Perché hanno detto rosso? No no di tempo abbandoniamo Abbandoniamo No no mi sono arrabbiato Basta Basta Ragazzi il video finisce qua Ciao